Sono aumentate in modo esponenziale sicuramente l'ansia e gli attacchi di panico, la stanchezza e tante volte anche l'apatia. È come se non ci fosse più una prospettiva futura, quindi va recuperata un po' la speranza. Pandemia, distanziamento sociale, dad, poi arrivano gli echi di una guerra vicina, queste sono le cause del malessere oppure una causa scatenante di un disagio sopito? Sì, sicuramente un disagio sopito, nel senso che la pandemia e poi successivamente anche questo conflitto chiaramente ha fatto emergere delle fragilità che però già esistevano. E questo ha costretto ognuno di noi, chi più e chi meno, perché il disagio poi è sempre soggettivo, a confrontarsi con queste fragilità. Che la scuola italiana si prenda cura anche della psicologia dei suoi bambini e ragazzi è un vero progresso. È una risorsa per i docenti, è una risorsa per i genitori e di riflesso è una risorsa per i bambini e le bambine. Quali sono i malesseri che l'hanno spinta verso lo sportello d'ascolto della scuola? I miei figli hanno iniziato il loro percorso scolastico proprio in concomitanza con l'arrivo del covid e ci siamo resi conto che c'era bisogno di un sostegno anche per noi genitori esterno che spiegasse questa situazione e che rendesse tutto molto semplice. Non eravamo preparati a raccontare una pandemia, nessuno di noi l'aveva mai vissuta, però l'abbiamo raccontata e l'abbiamo raccontata in modo tale che non diventasse un problema, una paura. Ci sono le regole, le rispettiamo. Della vicina guerra in Ucraina, in classe ne parlate? Ne parliamo, ne parliamo cercando di davvero mettere in luce i valori della nostra carta costituzionale e valorizzando le storie di ciascuno. E' chiaro che chi soffre di più in questo momento sono i bambini le cui famiglie hanno storie e hanno a che fare con la guerra. I bambini del Kosovo, i bambini della Moldavia che si sentono tantissimo vicini all'Ucraina e che quindi portano vissuti intensi di storie, di sofferenza, le guerre in ex Jugoslavia. E chiaramente la scuola deve essere in grado di accogliere, sostenere e promuovere la pace. Si fanno tantissime domande, tantissime domande e chiedono, ma la guerra può arrivare anche qui? Ma noi cosa possiamo fare per aiutare questi nostri amici? Perché alla fine, mamma l'Ucraina è Europa, è in Europa, fa anche gli europei. Sono bambini come me. Li vedono in televisione con i giubbotti uguali ai loro, con gli zanetti dei Pokémon come loro. Mamma, guarda, anche il bambino ha lo zanetto come il mio, di Super Mario, dei Pokémon. Hanno le stesse cose in comune. Sono bambini come i nostri bambini. Pensano molto e chiedono, ma se è successo a loro, può succedere anche a noi? E questa domanda spiazza. I ragazzi della tua classe, delle tue classi, hanno intensificato la richiesta dell'incontro con lo psicologo? La richiesta si è intensificata in maniera davvero significativa, soprattutto nel post-pandemia. Ho visto anche da parte dei ragazzi, io insegno nella fascia 11-14, proprio un'assunzione di responsabilità. Si sono scontrati con problemi sicuramente più grandi di loro. Per la pandemia, ovviamente, nessuno di noi era pronto. Da alcuni anni non hanno più il compagno di banco, quindi hanno avuto esperienza di questa realtà molto atomizzata. Paradossalmente questa pandemia ci ha allontanato più tutti. Ho comunque allontanato chi aveva librerie meno fornite, come dico sempre, quindi ha reso più uguali quelli che ne avevano meno bisogno. Ci sono alcuni dei miei alunni che, per esempio, non hanno una connessione internet a casa, che non possiedono un computer. Il bullismo non è tra le origini del malessere? No, credo solo in parte. Il nostro compito è quello di educare, quindi di portarli a riflettere. Basta educarli alla complessità, secondo me. Psicologi in forza alle scuole. C'è una buona copertura considerando Firenze come campione? Sicuramente negli ultimi anni tutti gli istituti scolastici hanno compreso che è quanto mai necessario appoggiarsi e fare affidamento su un professionista. Per cui devo dire che le scuole su Firenze, ma anche in provincia, negli anni si sono attrezzate attivando contratti di collaborazione che ormai dappertutto appunto sono in essere. Da parte di questi lavoratori ci sono modalità da modificare? Certamente. Questo è un settore che avrebbe bisogno di essere affrontato in modo molto più complesso, in modo tale da permettere alle scuole di avere sempre al loro fianco figure di questo tipo. Penso ad esempio alla necessità che si mettano in relazione scuole, enti locali, ASL e presidi del territorio, perché dovremmo creare una rete di soggetti che sempre di più comprendono quanto sia necessario avere a disposizione una voce autorevole e utile per i loro ragazzi.